ciao quest'anno il sussidio di anima giovane delle bc guarda è una vera bomba una festa anzi no è il sussidio che ti aiuta a far festa e lo dice anche qui e come si fa basta vivere al meglio le relazioni che viviamo tutti i giorni perché le relazioni sono un po come gli ingredienti no quando preparate lavate tagliate insomma cucinate è per questo che la storia di quest'anno è ambientata in una cucina di un ristobar tutto particolare gestito da Sunté Jean Pierre solo che in questo ristobarli nello scantinato sotto sotto vivono i sette nani cattivi si hai capito bene questi sono cattivi no tu hai in mente quelli buoni questi sono proprio cattivi cattivi sono comandati da solo il nano che vuole fare tutto da sé e poi c'è scivolo c'è gruzzolo c'è fifolo c'è idolo c'è bernoccolo c'è spigolo insomma veramente cattivissimo si alla fine vince bene ma grazie alla storia tu puoi presentare le relazioni ai ragazzi e quindi vivere un'estate alla grande e tu lo sai no noi siamo quelli delle video storie se tu vai su www.estalive.it trovi tantissimo altro materiale in più dalle video storie alle canzoni al ballo agli allegati sui rigiochi per le attività e poi ancora al campo scuola alle schede elementari insomma di tutto di più non ti basta ancora e ma come sei esigente va bene per te quest'anno ci sono quattro novità da prendere al volo mi ha preso in parole la prima è questa lo so ti sembra un opuscolo normale ma in realtà è lo strumento per i coordinatori tu lo apri e trovi la sintesi del tema e della storia lo apri ancora un'altra volta e trovi un intero percorso per preparare il tuo centro estivo lo apri ancora e hai un poster per memorizzare tutto quanto bene tutti i temi e i vari obiettivi ma se lo apri ancora hai uno strumento per la progettazione educativa del tuo centro guarda se scarichi tutti i materiali troverai delle attività per prepararti insieme agli animatori è eccezionale non ti basta ma ti ho detto che sono quattro novità allora a questo punto sai cosa c'è puntiamo alla seconda la seconda è che il libretto per la preghiera e la meditazione degli animatori quest'anno è a colori perché anche la spiritualità deve essere così a colori ma non ti basta veramente guarda allora quest'anno c'è anche il libretto stare progettazione tu mi dici che c'era anche gli anni scorsi lo so ma quest'anno anche se è più fine ci sono molti più materiali per prepararsi e se tu compri due sussidi beh sai che cosa c'è ci mando i codici noi ti rimandiamo questo personalizzato con il logo e il nome del tuo centro e in più alcune pagine speciali aggiunte e tu ne stampi le copie che vuoi è veramente veramente eccezionale e siccome sappiamo che tu sei un animatore che lo vive fino in fondo l'animazione che veramente sta tutta per questa missione a te per te quest'anno il sito estalive raddoppia non solo i temi dell'estate il materiale per il sussidio ma anche un sito con tante attivazioni giochi idee materiali per tutto l'anno ti piace questa idea beh se ti piace sai che cosa c'è che puoi dire estalive ovvero il grande concorso più mi piace ci sono sulla pagina facebook di estalive più il tuo centro beh può vincere il primo premio vuoi scoprire qual è vuoi scoprire come o ormai lo sai www.estalive.it e ricordati quest'estate se vuoi veramente un sussidio alla grande stai con noi ma come perché ma per far festa no e ricordati quest'estate se vuoi scoprire come un'altra stai con noi ma come un'altra stai con noi grazie a tutti